L'Istituto Surico attende il Natale con una iniziativa davvero speciale, un presepe vivente, molto molto particolare, soprattutto per i piccoli attori che ne hanno preso parte come queste bravissime ragazze che sono qui, che stanno facendo? Le Panettiere. Siamo all'interno del Frantoio Ipogeo e dicevamo un'iniziativa davvero particolare che è un momento anche di aggregazione per le tante famiglie che sono intervenute e soprattutto un'iniziativa possibile grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni del territorio e ora andiamo a scoprire questo bellissimo presepe vivente dell'Istituto Surico. L'Istituto Surico L'Istituto Surico è veramente contenta di offrire al territorio questo momento di festa e di gioia. Lo scopo di questa manifestazione è uno scopo fondamentalmente didattico per i nostri ragazzi che acquisiscono delle competenze di tipo espressivo e artistico ma anche storico-culturale perché stiamo vivendo anche la parte storica del paese di Castellaneta. Anzi siamo molto contenti che sia stata molto vissuta questo momento perché vedo molta gente e molta partecipazione, molte famiglie stanno apprezzando questo momento, i ragazzi si stanno divertendo tanto e per noi è veramente importante. Mi sento di ringraziare tutti i docenti e le famiglie che hanno contribuito allo scopo. Per questo evento c'è stata la collaborazione di molte associazioni e molti enti. Innanzitutto ci teniamo a ringraziare il comune di Castellaneta, in particolare il consigliere Tommaso Tria che è stato molto vicino, ma anche la parrocchia di San Domenico, Don Giuseppe e anche alcune associazioni come l'associazione Amici delle Gravine, Amici dei Presepi, Castellaneta Evolution, Orti Condivisi e alcuni nostri sponsor come la Sala Azzurra e la CIA. E molti altri sponsor sarebbe lunga la lista insomma. E'ureau otto. E E' E' Grazie a tutti. L'Icci Surico vuole augurare a tutta la città di Castellaneta un felice Natale, un sereno Natale che possa essere trascorso serenamente in tutte le famiglie. Sono molto contento di questa esperienza, ci stiamo molto divertendo, stiamo anche mangiando, è molto divertente. Buon Natale! Auguri di Buon Natale a tutti e anche buon anno nuovo!